Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo video, facciamo un update sullo spread trading. Abbiamo proprio qualche giorno fa parlato di alcune opportunità che avevo sotto il radar e vi avevo spiegato le motivazioni che mi avevano portato a metterle tra le opportunità che si potevano creare e volevo proprio dirvi che, guardare qua sulla mia piattaforma, era un'operazione sul KE, un'operazione su LE, ZL, HE e NG quindi sono praticamente entrate tutte quante, eccole qui, guardate vi faccio vedere anche una cosa su Trader Workstation come andare a creare una group header cosiddetta, cioè per vedere quanto tutte queste operazioni stanno performando allora guardate basta inserire una group header, dargli un nome, mettiamo spread trading aprile maggio e adesso, ops, aprile, maggio, adesso vedrete che abbiamo qui la sommatoria di tutte le operazioni vedete che qua abbiamo KE, che in realtà è l'unica che ancora non mi è entrata eccola qui, ci sono 5 contratti in SEL a meno 9,5, siamo adesso tra i meno 10 e meno 9,75 quindi potrebbe entrare proprio oggi, KE farina rossa poi abbiamo LE invece, che è entrata, e adesso lo andiamo ad analizzare, è entrata da poco solo con un contratto e siamo praticamente a meno 79 dollari, ma pressoché non si è mosso ZL, soybean oil, l'olio di soia, che è a 3 con 10 contratti e qui abbiamo HE, infine, con ENG, HE un contratto è in profitto di 41 dollari e ENG, il natural gas, con meno 5 contratti ora andiamo un po' a ripassare perché siamo entrati e che cosa ho intenzione di fare con queste operazioni ragazzi, prima di passare alla parte pratica, volevo ricordarvi una cosa giovedì ci sarà il solito appuntamento webinar live in diretta, gratuito ovviamente, aperto a tutti mi raccomando iscrivetevi, finora ne abbiamo fatti i 6, sono stati tutti quanti estremamente interessanti trovate il link per iscrivervi qui sotto nel campo descrizione vi ricordo anche che domani alle ore 12.30 terrò un webinar insieme a XTB, broker finanziario e domani parlerò un po' del trading ai tempi del coronavirus ci sarà tanta analisi tecnica, quindi non dimenticatevi questi due appuntamenti domani alle 12.30 e trovate anche qua il link di sotto nella descrizione sotto questo video per iscrivervi alla masterclass e giovedì per tutta quanta la community qua del mio canale YouTube ci vediamo alle ore 19 come al solito, passiamo e continuiamo con l'analisi allora, NG, natural gas, natural gas, natural gas che vi ricorderete questa era l'entrata stagionale è in cell, finestra temporale molto molto lunga, guardare si entra qui e si esce praticamente a metà luglio di quest'anno, la mia intenzione non è di tenere l'operazione aperta così tanto ma di entrare e uscire più volte in questa finestra temporale ero entrato con i primi contratti a questi valori e voglio rientrare a questi massimi se il prezzo dovesse risalire quindi aggiungere i contratti e guardate, c'è questa parte della stagionalità in cui il prezzo è quella finale in cui il prezzo storicamente, mediamente tende a scendere di più quindi dal metà maggio a giugno e poi ancora da luglio a metà luglio nella parte proprio finale perché è importante per me visualizzare queste cose perché capisco dov'è che nel caso in cui mi devo aspettare un movimento so che me lo devo aspettare in queste finestre temporali qua sul natural gas ragazzi c'è da dire una cosa guardate, vi faccio vedere andiamo a vedere un attimo UNG che è l'ETF del natural gas perché il natural gas risente un po' dei prezzi del petrolio e soprattutto della stagionalità adesso sta finendo l'inverno, anzi è finito l'inverno scusate se stiamo a primavera, sta per arrivare l'estate i prezzi tendono a scendere ma del resto qui i prezzi del natural gas sono scesi in maniera ininterrotta da questi massimi qua 23 dollari da novembre vedete che non hanno fatto altro che scendere qua sono passati sotto la media 200 periodi e sono sempre sempre scesi mi aspetto che comunque i prezzi possano continuare a scendere uno per la stagionalità, il primo ragionamento di analisi fondamentale il secondo ragazzi riguarda quello che sta succedendo al petrolio petrolio che anche oggi, guardate ve lo faccio vedere anche oggi è in territorio rosso qual è il problema del petrolio? è che non c'è richiesta di petrolio e quindi il petrolio continua a scendere e non solo non c'è richiesta, c'è un problema di stoccaggio lo stesso problema di conservazione della materia prima potrebbe verificarsi sul natural gas quindi capite bene che la mia visione anche sul natural gas in questo periodo è ribassista che si sposa completamente alla stagionalità di questo spread quindi per ora sono entrato con, mi sembra, 5 contratti e adesso ho intenzione di aumentarli nel caso in cui il prezzo si avvicini verso lo 0,045 0,046 per aumentare i contratti e andare a prendere un primo take profit non appena scende un pochino il natural gas e quindi questo era il primo spread che avevamo a disposizione voglio farvi vedere anche il secondo che è Linux è Live Cattle scusate quindi questo è Live Cattle in vendita e mette in relazione praticamente si vende la gamba di dicembre e si compra quella di febbraio e qui siamo entrati vedete anche qui stagionalità abbastanza lunga si entra qui short vedete che il prezzo all'inizio è andato verso il basso io stavo aspettando che cosa? vi ricordate l'analisi che avevamo fatto? stavo aspettando proprio questo doppio massimo cioè volevo vedere che il prezzo potesse tornare verso questi valori qua adesso ve li segno verso questi valori e rimbalzare magari anche con una bella divergenza dell'RSI e vedete che effettivamente la divergenza ce n'è pochissima ce n'è stata poca però il prezzo è andato su e sembra che l'abbia utilizzato come resistenza quindi per ora ho aggiunto i miei primi contratti in sell se il prezzo dovesse arrivare in quest'area qui ne aggiungerò altri in modo tale da approfittare vedete che qua nella praticamente nella parte centrale finale dello spread e lo spread è lì che si tende a muovere bene staremo quindi a vedere che cosa succederà del resto ragazzi sulle carni c'è da fare un discorso piuttosto ampio che cosa vuol dire? c'è un problema enorme sulle carni perché negli Stati Uniti c'è un diciamo una problematica che si sta verificando un po' come per il petrolio ci sono troppe c'è troppi bestiame e non si sa più dove stoccarli quindi dove tenerli è un problema grande per me che sono vegetariano lasciatemi dire parlarne mi fa ancora di più rabbrividire però dal punto di vista fondamentale quando c'è un'abbondanza di una materia prima che succede è che i prezzi tendono a scendere perché c'è tanta offerta ma c'è poca richiesta ricordatevi supply and demand offerta e richiesta quando è alta l'offerta cioè c'è tanta materia prima in circolazione ma c'è poche aziende e privati che vogliono comprarla i prezzi devono scendere quindi si parla già di sperdite da 20 miliardi di dollari a causa anche della pandemia che si è riversata nei settori delle carni e dei latticini c'è un problema nella catena dei rifornimenti alimentari ci sono state grandi aziende Tyson Food Smithfield Foods JBS che hanno chiuso hanno dovuto chiudere per colpa del virus e adesso sì sicuramente riapriranno ma la capacità di lavorazione delle carni sembra che sia stata ridotta di circa il 15-20% quindi capite bene che noi possiamo trasformare queste informazioni fondamentali positive o meglio in notizie positive per avere un vantaggio statistico ulteriore ecco perché sono entrato con queste operazioni noi le seguiremo staremo a vedere che cosa altro succederà e oggi volevo farvi appunto semplicemente un update su questi punti ragazzi un like se il video vi è piaciuto sull'argomento noi ci vediamo prestissimo grazie mille per l'attenzione buon trading a tutti ciao